Allora in AES io mi occupo di pianificazione energetica, quindi seguo i comuni e li assisto nello sviluppo di piani energetici comunali che prendono il nome di PAES e mi occupo di progetti europei, quindi seguo tutta la parte di progettazione europea, preparazione delle domande e sviluppo e implementazione dei progetti e poi mi occupo anche di assistere le amministrazioni pubbliche in progetti appunto di censimento dei consumi di energia nel patrimonio pubblico e appunto nell'ambito di questa attività è nato l'incarico da parte del comune di Mirandola per fare uno studio propedeutico alla certificazione ISO 50001 per gli edifici pubblici, ecco questa era un po' la motivazione, per cui insomma seguo il comune di Mirandola da anni e da questa collaborazione è nata l'esigenza di capire meglio lo stato di efficientamento energetico del patrimonio pubblico e questo anche perché in seguito al sisma l'amministrazione si è visto un po' rivoluzionare il patrimonio da gestire perché avevano comunque alcuni edifici che erano più agibili, altri che sulla base della loro strategia energetica erano alimentati anche teleriscaldamento e tutto il patrimonio nuovo che comunque è alimentato a pompe di calore quindi energia elettrica e quindi capire un po' rispetto al patrimonio un po' così, un po' misto e quale fosse stata la scelta strategica migliore, come andare a confrontare questi edifici, no? Perché comunque alcuni erano alimentati a metano, alcuni con teleriscaldamento, alcuni a energia elettrica insomma capire quale fosse stata la scelta migliore dal punto di vista anche tecnologico e poi nell'ottica di migliorarsi e appunto cercare di capire cosa gli serviva per arrivare a certificarsi questo è una norma come la 9001 che certifica la qualità di un'organizzazione invece la 5001 certifica il fatto che un ente, un'organizzazione usi le energie in modo efficiente ecco per cui e ottimizza i processi in questo senso per cui può essere applicato a un edificio solo così come a tutto il patrimonio pubblico o anche ai veicoli, all'illuminazione pubblica che si può scegliere se applicarla a solo un'attività dell'ente oppure anche a tutti gli edifici appunto e a tutte le componenti quindi insomma è stato uno studio interessante perché ha permesso di fare ordini in un comune dove c'era un po' di disordine nonostante sia uno dei comuni più virtuosi perché comunque ci tengono molto però insomma devo dire che con il sisma è una situazione appunto del patrimonio abbastanza promiscuo insomma nel senso che alcuni edifici sono parzialmente agibili altri proprio del tutto non agibili e questo studio ha permesso appunto di mettere un po' ordine e creare delle priorità che è la cosa più importante per un ente avere delle priorità per capire quali sono gli interventi prioritari da fare sul territorio e quindi anche gli edifici più energivori dove andare ad agire e i costi per la gestione del patrimonio pubblico dal punto di vista energetico e quindi insomma è stato abbastanza interessante devo dire sì ecco in provincia di Modena c'è solo un comune che si è certificato 50.001 credo che abbia due scuole certificate 50.001 quindi non tutto il patrimonio che è il comune di Maranello è molto impegnativo per un'amministrazione comunale perché comunque prevede di mettere in piedi delle procedure sia nella gestione dell'edificio ma anche nel monitoraggio dei consumi e nell'approvvigionamento di energia e quindi diciamo che appesantisce un po' l'ente e sicuramente i benefici ci sono perché comunque ci sono dei risparmi nella gestione dell'energia però comunque a fronte di un appesantimento appunto nelle procedure amministrative che insomma secondo me l'ente pubblico fa un po' fatica quindi ci vogliono proprio dei comuni di questo tipo ecco particolarmente vivaci e virtuosi per portare avanti una per implementare una normativa di questo tipo ecco sicuramente è necessario avere dei tecnici ben formati perché comunque è un impegno abbastanza oneroso diciamo